Buongiorno 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 Sanno prossime ci farete Poi hai scперato Sto fare in giallo Come diritto dopo di questo sono uguali, sono tutti 39 e 42 ma Mari come te l'ho usata da un correggente? sono 60 mi faccio un fiocchettino perché sono grandi e poi io non c'era il numero iniziale ma da quando non è iniziale? puoi ritirlo e alle mie scarpe e gli daranno più che i piedi vedrai ma si è struttura ma hanno iniziato a me ma allora si va bene iniziale ma ho sentito questa cosa per un minuto ma dopo ci sei l'anno ma io che poi si è stato no colito ma di venire a scuola non ho paura mamma e papà non ti diano da mangiare perché mia mamma non c'è in tutta la venuncia e vabbè vai vabbè quindi tu vai no 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 quindi vai da mio papà a lei ok lo dirò ai papini ok se soprattutto sai che fai schiavevo la verifica ah beh è ottima idea hai proprio tanto te la fa rifare orale che siete intanto ho quattro quindi con i settimbociano in prima e me dai non ho mai scritto ma non ho mai scritto niente io ho scritto un po' con la sinistra e poi dopo ho pensato di andare a destra quindi senza così e ho detto ma scusa ma hai frappensato ma era anche il primo banco ma tu già ti ha visto che stavi scrivendo si è anche chiesto con lei e fuori io ho messo la linea per il gioco questa ma stai per mettere un papà e mi sembra perché c'è il capo non metti l'aria ubiccisi non lo so la bambina ma questa è come funziona così si però l'aria ubiccisi non c'è perché la bambina non possiamo fiscarsi no è più grande allora uguale a questo per forza perché hanno l'aria ubiccisi non lo so forza perché non so hanno l'aria ubiccisi non lo so Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.